Conferenza stampa congiunta dei gruppi consiglieri di centro-sinistra in consiglio regionale stamattina a Pescara, a fianco alla piazza dove si sono dati appuntamento migliaia di giovani per la mobilitazione del Friday for Future. Giovanni Legnini, il capogruppo e consigliere del PD Silvio Paolucci e Antonio Blasioli hanno fatto il punto sulla seduta del consiglio regionale di ieri e in particolare sull'approvazione della proposta di quesito referendario sulla legge elettorale giunta a nottefonda. Sono arrivati ultimi e volevano arrivare primi, abbiamo fatto un lavoro forte di opposizione nel merito e nel metodo sia il centro-sinistra che il Movimento 5 Stelle ottenendo un risultato, quello cioè di lasciare loro un pronunciamento inutile fuori dopo che altre 5 regioni avevano deliberato per un quesito che io sono abbastanza sicuro verrà dichiarato inammissibile perché ci restituisce un testo di legge elettorale incompleto, inattuabile e perché viola i più elementari principi di rappresentatività, di eguaglianza del voto pregiorando un sistema elettorale assolutamente pericoloso per la democrazia. A nostro avviso è irrilevante per gli abruzzesi il tema, è irrilevante perché è illegittima la modalità e il quesito con il quale loro sono giunti alla votazione finale. Noi vogliamo stare sulle questioni che riguardano l'Abruzzo e abbiamo voluto sottolineare anche la nostra partecipazione oggi alla grande protesta che gli studenti attorno al clima hanno voluto portare all'attenzione anche qui in Abruzzo.